il bravo questo il bravo salve a tutti ragazzi sono piazza bentornati nel mio canale siamo qui quest'oggi in una nuova challenge penso alla prima del mio canale in coppia di federic95ita mi raccomando trovate il suo link in descrizione anche lui è un game player non gioco clash of clans gioca a pokemon un gioco che davvero ha coronato la nostra infanzia quindi mi raccomando iscrivetevi e guardate i suoi video perchè secondo me non sono di parte sono tra i migliori guenzaro su pokemon se vi piacciono i pokemon non voglio per forza iscriverti allora oggi ragazzi siamo qui con questa nuova challenge sul canale di piazza spiega bene tutto forza si allora la challenge si chiama indovina lo youtuber indovina lo youtuber channel esatto e ci troviamo su un'applicazione che si chiama charades si è un'applicazione spagnola presumo quindi non sappiamo bene la pronuncia se uno spagnolo sotto me lo dicano si esatto comunque magari la scriviamo in descrizione per chi vuole giocare come noi e oggi abbiamo appunto questa applicazione al meglio di 5 ci sarà una penitenza che facciamo se la scrivete nei commenti praticamente chi perderà questa sfida quindi chi individerà meno youtuber dovrà nel prossimo video perchè ce ne saranno altri fare una nuova challenge appunto e una nuova penitenza scusatemi e ci scrivete in descrizione quale la prima data sarà fatta qualsiasi esso sia quindi sbizzarritevi le cose più epiche le cose più epiche le cose più epiche le cose più epiche allora io direi di chi inizia buttiamo giù facciamo che e cominciò io a indovinare il canale è tuo allora io non conosco bene l'app lui la conosce abbastanza bene quindi se mai se sono un po' imbacciato con l'app è per cui dove c'è la allora ragazzi si inizia subito io incomincierei a startare che dici? esatto vai partiamo faccio play adesso lui clicca a play vi fa la vedere io non guardo eh dimmi quando si andiamo esatto aspetta un secondo vedete un attimino ok appena apparso il nome ok c'ho 60 secondi perfetto dimmi è maschio? si è maschio è maschio fa minecraft? si fa anche minecraft si fa anche gli indizietti allora fa minecraft ehm fa parte degli illuminati griont? fa parte di me la godo? no fa parte di di maiz? no salola ehm un saluto perché state ci sono oddio raga ehm fa minecraft fa minecraft e chi è che non fa minecraft? il problema è che non fa parte di uno di questi gruppi così grossi esatto ed è un mezzo indizio questo è romano? no è tontino? no no allora non pesce se è romano chi è che fa minecraft? tutti fanno male infatti è quello tutti fanno minecraft e quindi? e quindi? questo è tosto ehm ti lascio altri 15 è lion no e questo è tosto hai altri 20 secondi ehm che cazzare ti lascio qualche secondo extra se vuoi il tempo è finito ti lascio altri 5 ma ce ne sono troppi non hai proprio idea e ragazzi era marci perché quando tu la scesi fa minecraft anche lui certo non ha 700.000 iscritti era marci ehm zero punti per fede troppa gente la grafica qui in basso che non farò mai non la farò mai la grafica zero punti per fede va bene allora stai in 1 a 0 per te ragazza allora tocca a te vai si inizia a basso Dario Mozza dovrei perdere si ma no no quando il mio secondo manco era Dario Mozza poi è venuto Torric e quando ha scoperto che è venuto Varso si va bene ma non so Dario è venuto Varso ok ragazzi adesso tocca a Piazza vediamo un po' dimmi tu non so quando vai 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 ok vai boom boom è maschio eh si gioca a minecraft ehm ha fatto minecraft nuda 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 fa parte dei meragodon non fa parte dei meragodon pochissimo dei mates no allora è Klaus non è Klaus partimi dietro quel no un po' così no no ehm non guardo solo che voglio guardare un po' in camera ehm fa parte degli illuminati no ehm guarda che questa cava legge particolare da parte di un duo mmm no no oh mio dio cioè potrebbero essere un duo però non è un duo capisci ha giocato a clash of lands? mmm si oh mio dio io non so chi è un maschio eh no no 8 secondi no non mi metti nessuno eppure dovrei conoscere tutti per i giorni di Dash of Dance nooooo nooo mi dispiace no 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 era Ciccio Gamer niente hello from the other side due ecco perchè mi hai messo una cosa no e li dovrei essere un duo tra fratelli giochere cinciol the pp sono un milione di iscritti grande ciccio eeehh e va be ah rega siamo pari siamo pari 0 a 0 2 spigone 0 a 0 3 le big sfide ok io faccio vedere a voi vai vediamo e un po aspetta un attimino ok ci siamo ok Procedi pure con le domandine E' maschio? E' maschio Ha fatto GTA? Si Ha fatto Minecraft? Si Ha fatto anche Minecraft Fa parte di Melagodo? No Illuminati più? No Questi sono domande classiche Mates? Si Ah fa parte dei Mates No Hai preso perchè nel senso Hai gli occhiali? No Angro fai anche le domande Eh non posso dirlo subito Ehm Ah non ha gli occhiali Non c'è se posso direttore nomi o due Così si Perchè sennò lì dici tutti Sono quattro E' mono? Si Si Anima No Anima Ehm No ragazzi Perchè sennò Io dico tutti i nomi delenze Non sarebbe giusto Esatto Chi si scurre la test di anima finita E' ovvio E' dire l'ultimo secondo me è la cosa più giusta 1 a 0 Quindi 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Round 3 Adesso ragazzi Tocca a me schiacciamo un play 1 a 0 Vai Dai Qualcuno di semplice Ok vai Vai E' maschio Si Cos'era questo tipo Ma che cazzo 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 Noo Non sono insicuro Questo è difficilissimo Dai Ha più di 50mila iscritti Sii Ok no allora li ho spaccati Eh Vedo degli suggerimenti all'esterno Sii A parte degli illuminati Noo A parte dei mates Noo Non fa parte lui Noo Ma hai detto che non è neanche insinc Che cazzo fa questo Eh che cazzo fa eh Non lo so neanche io che faccio Non lo seguo questi Questi ecco Sto dando YouTube Oh Questi Six and a half hours later Ha più di 400mila iscritti Wuuu 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 E' italiano? Noo Ah ok Noo eh Eccolo ok Ok Posso gli smoosh o non gli iscritti Wow Questo era difficile ragazzi Se non gli davo un aiuto così No vabbè SQ era pazzesco Cioè SQ è Eppure non li seguo Certamente so chi siamo Perché non li abbiamo messi noi No esatto Cioè io non so Potrebbe esserci Eeeh uno con Non so Mille iscritti E' più di bai Con 41 milioni ormai Esattamente Potrebbe esserci chiunque Quindi siamo uno pari Cioè dobbiamo fare altre altre A questo che vale un e mezzo Hai preso anima Hai preso anima Lo conosciamo tutti Ok Rivado io play Vai Mi giro Dai 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 Ok Domande classiche italiano Si E' maschio Si è maschio Illuminati crew Si Ce ne sono un po' eh Sono tanti Eh è romano No Non è romano Quindi ne hai scattati un macello Eh è trentino No C'è nessuno C'è nessuno C'è nessuno Che lo fa più parte però Allora Illuminati crew Eh ci sono anche i miei nubi Vero Trentino Eh Cazzo Illuminati crew E' romano Ah e sono della sicilia Si E' son Allora Sono di Di catania Vabbè No E' di palermo Ok E' un po' palestrato Diciamo Chi cazzo E' muri Si è muri E non so neanche perché te l'ho detto al plurale Perchè mi hai detto Sono di palermo Io generalmente li associ insieme Giambi e muri Esatto Mi è uscito un si Però in realtà era praticamente un no Perchè è una persona Quindi siamo due a uno Per fede Ci siamo Allora Mi metto qua bello così Lo vedete per bene Vai Ok vai Ok E' maschio Si E' anche amici no Ci sono quattro tipe Gioca a minecraft No Gioca a clash of clans No Gioca No Fa blog Si E' un blogger Esclusivamente un blogger Non è esclusivamente un blogger Non so Fa prank Fa prank Ehm No No Non fa prank Non fa prank Fa gameplay No Neanche un po' No Oddio santo E' questo è difficile Ah quindi 300.000 iscritti Così cominciamo a tenere una bella fetta No Ah non è neanche super big Certo che Questo non lo conosco molto bene su youtube perchè Io non lo conosco molto bene Hai quindi 18 anni? Si Non gli ho idea Non gli ho idea No chi era? Cane secco Ah era Cane secco Cavolo Era difficile Si Cane secco era abbastanza difficile Anche perchè non fa parte di nessun gruppo Ha più di 18 anni Ma Esatto Cavolo cavolo Quindi siamo due Sempre uno E mi sa che pede questo giro O mi capita Stephanie Ma Fa vlog Ma Fa vlog E scusate Fa prank Perché io odio Lavoro come montaggio Perché io odio Fa montaggio anche altri Ok ragazzi Adesso Quarta Questa cosa è facile Esatto siamo al quarto youtuber Dai a indovinare Fede In vantaggio di poco Ma in vantaggio Ok dai Ready? Vai In giro di livello tosse Dai 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 Ok Vediamo? Ok Ok è maschio? No quindi voglio vedere Ah è una ragazza cazzo È di Roma? No Ci ho dovuto pensare un attimo perchè no È di Milano? Sì È di Milano È difficile questa Potreste sbaglio qualcosa È bionda? No Non è bionda Non è bionda Ed è di Milano? Sì È Credo spero ma pare di una cazzata La sparo Questa la sparo Questa la sparo perchè di Milano mi avevo scoltato due Lea No non è Lea Quindi non so mai cosa è sicuro che di Milano è È bionda di Milano Non è... Tu mi hai chiesto Tu cosa ti hai chiesto prima? È bionda non è bionda È bionda È bionda È bionda No quindi non puoi dire C'è chi è ragazza? Capelli scuri Sì ma è di Milano Fammi cazzo? Sì Oddio ragazzi No No Non sono io sicuro che fossi di Milano però sicuramente No Non credo che c'è Ha vissuto Milano Però di ragazze ragazze totalmente pochi che più o meno 3 a 1 per me Adesso se tu fai questa e alla prossima la vinci andiamo pari Se io non ho sbaglio eh Quarta fase Una facile Di assolutamente vincere Ok posso andare? Sì È un maschio? No È una blogger? Per forza Sì 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 È di Milano? Sì Su Pia Viscardi? Ah sì L'avevo detto pure io prima Su Pia Viscardi Su Pia Viscardi Subito Era semplice Ragazzi se io sbaglio e lui vince la prossima Andiamo pari Andiamo pari C'è lo spareggio E vediamo cosa inventarci Vediamo O facciamo una peritenza doppia perché non parla è brutto Per forza esatto Final round Se io vinco raga Ha perso piazza Vai Vai Un giro che non vedere Un giro complicatissimo Ti prego Ti prego Non lo hai neanche visto vai pure Non lo hai neanche visto È maschio? Sì È di Roma? No Non è di Roma Credo Mates? No Non è di Gru? No Mi raccordo No Uuuu Fa Clash? Si Oh Fa Clash? Ha fatto anche Minecraft sul telefono? No Forse si non penso però Ha fatto due video Ha fatto un video dove giova a Clash sott'acqua? No Ciao È del Trentino? No No Oh mio dio Ha fatto Clash of Clash Sono due fratelli? C'è lui ha un fratello? Lui ha un fratello? Non ho idea Non ho idea Non lo so Penso di sì ma non è idea Ma chi è che ha fatto Clash? Chi non ha fatto Clash è la domanda Oh mio dio Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Dai Grande così Federonzo No È Federonzo E lui ha fatto Minecraft sul telefono Un sacco di video ha fatto Un sacco di video sul telefono Si E gli altri ha fatto un sacco di video Si Si E lui li ha fatti sul computer con i dati Ma quello No Federonzo che giocava sul telefono Perché mi sei? Ve lo giuro No Federonzo che giocava sul telefono Porca miseria Ve lo giuro No Ma raga Sicuro che lo può mettere Perché io te lo giuro ve lo chisco Guarda che maghezza Guarda che maghezza Che cerca di telefonare il modo Però no Dopo cerchiamo il computer Perché io te lo giuro che l'ha fatta Ah raga Io ero convintissimo Ragazzi Che aveva fatto i video su Clash C'è sul telefono Ma io non so Cioè Se pensate che stavano su questo video No perché stavo pensando anche da me Anche io scusate Dai li fa Dai li fa Ma ho fatto la cazzo da io vai Mi fate i video di me Perché si ci ha guardato Guarda Ma perché Infatti Infatti mi sono scusate Meno male Siamo all'ultima fase È già partito Oh mio dio È già partito Di lui spiegare Vai 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 Allora è maschio Oh siiii Il branzo qui No Non hai detto così Mi ha pensato subito il branzo Non è il branzo A parte degli illuminati Non ho fatto quello di illuminati Mellacoto No Mage No Esiste? Di Italia No Ah è straniero Si Pug and play Si Più di Pai Ma è entro con questa Si Oh Ho fatto Felix Con i suoi bellissimi 40 milioni di iscritti Mi ha citato prima è uscita Arriga Tre pari Tre pari abbiamo fatto Esatto Tre pari Tre pari direi che ci sta O facciamo O ci scrivete qua sotto una penitenza provocativa Esatto Se meno me ci sta meglio di uno spareggio Esatto Facciamo tutte e due qualcosa Perché se lo facciamo soltanto uno era un po' noio Esatto Facciamo tutte e due e ci massacriamo Per questo video ragazzi è tutto Spero vi sia piaciuto la challenge sul mio canale Se ne volete anche un video di Fede Spollicciate Postate al suo canale che è sempre in descrizione Io vi saluto e lascio alla fine del video A Fede che mi saluterà ovviamente E ciao Grazie per aver guardato questo video Passate anche sul mio canale Esatto Uscirà nello stesso momento praticamente Esatto E niente Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Scrivete qua sotto nei commenti tutto Le penitenze Lasciano che vi è piaciuta di più Lo youtuber che magari Qualsiasi cosa dai Esatto Scrivete Scrivete qualsiasi cosa E noi ci vediamo con il prossimo Ciao Ciao